A Sassari è tutto pronto per la 73esima edizione della cavalcata sarda. Saranno più di 2000 i figuranti e più di 200 i cavalieri e amazzoni in rappresentanza di 60 associazioni provenienti da tutta la Sardegna che domenica 12 maggio sfileranno per le vie della città. E anche quest'anno non mancano le novità. Le novità quest'anno sono date intanto dallo spostamento dall'anticipo della data dal 19 maggio al 12 maggio. Il percorso sarà quello consueto, cioè partiremo da Corso Cossiga per arrivare in via Brigata Sassari, via Cagliari, saliremo per Portici Crispo e poi finalmente arriviamo in Piazza d'Italia e poi si conclude per via Roma. Nell'edizione 2024 ritorneranno nel pomeriggio della domenica dopo un lungo stop le tanto attese e apprezzate pariglie. I cancelli dell'ippodromo saranno aperti dalla mattina per l'accoglienza dei cavalli che si prevedono circa 250 per poi portare avanti tutta la giornata perché tradizione è che all'ippodromo dopo la sfilata tutti i manifestanti, i cavalieri, amazzoni e via dicendo rimangano lì per pranzo per poi dare il via allo spettacolo. Il sabato che precede l'evento invece sarà l'occasione per accendere i riflettori sugli artisti più rappresentativi della musica e dello spettacolo isolano. Un momento musicale che abbiamo visto l'anno scorso ha avuto molto successo ma contiamo di replicarlo forse anche con maggiore intensità rispetto all'anno scorso.